Signori, siete su scherzo a parte! E vi piacesse, purtroppo non è uno scherzo, è tutto vero. Dobbiamo restare a casa, non ci dobbiamo muovere! Finita? E... ce ne vogliamo andare? Non mi posso muovere. E che te l'ha detto che non ti puoi muovere? L'ha detto De Luca, non vi dovete muovere! Ma che dici? De Luca ha detto che non vi dovete muovere dalla casa! Non che non potete muovere in casa! Dai, andiamo in cucina che devi lavar terra! Trova sempre scuse!